Salve a tutti, wachikebari, e benvenuti nel video speciale del The Cartoon Show. Forse voi non l'avete notato, ma io ho recensito ben 46 cartoni animati. E non sto parlando dei miei video sui film d'animazione, saghe animate, Disney, Pixar, Dreamworks... No, ragazzi, solamente quelli che nella descrizione hanno la sigla. Perciò io vi ringrazio tantissimo che state adorando questa serie, e quindi ecco qui la compilation! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti